I gladiatori, non me li hai venduti tu? E non sono gladiatori, che sono? Ma io volevo i tacci! E non sono tacci! Ah, sono tacci! Guardali! Prego, Camilla, a meno che vuoi pietra. Camilla, a morte! No, mica una cimia, lui è essere ambaggiatore. Aspetta, un momento, sto parlando con Asi. Sentito, parlo con Asi. Qui tutti parliamo con Asi, quando è necessario. Brando, Brando, in casa Bubu, in casa Bubu, mi butto, mi butto? No, non buttare niente. E' beccato. Non buttare niente. Benef reignitti in casa. Frecciam�anze. Grazie a tutti. 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 Prego, cammina. Cammina con i piedi. A morte? No, mica una scimmia. Lui è un ambasciatore. Un momento. Sto parlando con Asi. Sentito? Parlo con Asi. Qui tutti parliamo con Asi quando è necessario. Brando. Brando. E in casa, Bubu? E in casa, Bubu? Mobutu? 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 No, non buttare niente. Deppi a... Buon assi. Bioputu? Cocina. Buon assi. Baia. Buon assi. Buon assi. Buon assi. Grazie.